Grazie a tutti A presto A presto Niente oggi si deve pescare col filo in mano Anche a spinning Spettacolo Spettacolo Doppia cattura In pochi minuti E a te E' proprio piaciuto Il Bat XS Ostia Wow wow Guardate che bestia questo Il trucco del legnetto funziona sempre Vai Ciao bello Bat XS 3 cm 4 grammi Teletop Ricavata da una Colmich Macar Da 3,80 Modificata con 4 blocchi E il vettino Doppio vettino innesto Questo è il vettino da spinning E poi c'è anche il vettino da giga head E poi c'è anche il vettino di